Farlo oggi, intestare, sto benedetto, impianto sportivo a una personalità. Io vi propongo pure, guarda, vi dico pure il nome e il cognome. Intestate l'Alberto Tribbioli, che ha sempre vissuto dentro a quel campo, ha sempre battuto sulle squadre, sulle cose. Almeno ci abbiamo pure, almeno quando si collegheranno alle televisioni, diranno ci colleghiamo con il centro sportivo Alberto Tribbioli di Ferentino, ma non di Frusinello. Perché si state facendo ridere, ma stanno ridendo pure gente fuori da Ferentino. Ecco perché, caro Simone, io ti voglio bene, ti stanno imbrogliando. Te l'ho dimostrato. Ma come ancora facciamo in tempo a dare tutto in mano alla società del Frusinone? Perché qualche sindaco passato si è dimenticato che abbiamo perso pure la squadra del basket. La squadra del basket va a Frusinone. Signori, Frusinone gioca a Frusinone, la basket gioca a Frusinone, a Ferentino che ci sono rimasti gli allenamenti.